In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteosette.it per gli aggiornamenti meteo di questo ultimo weekend dell'anno. Giuseppe vogliamo iniziare delineando la situazione del tempo allo stato attuale. Il bacino del Mediterraneo continua ad essere interessato da una vasta figura anticiclonica con massimi di pressione posizionati ad ovest del vecchio continente. Alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato anche se durante la notte al primo mattino determina la formazione di dense foschie e banchi di nebbia nelle vallate e pianure interne. Di conseguenza le temperature si attestano su valori bassi durante la notte mentre risultano miti nelle ore centrali della giornata. Un cambiamento come vedremo è atteso nell'ultimo giorno dell'anno. Cosa ci aspetta invece più nel dettaglio per le giornate di sabato 29 e domenica 30 dicembre? Per domani sabato 29 avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata a parte la formazione di dense foschie e banchi di nebbia durante la notte al primo mattino nelle vallate e pianure interne dove si avranno estese brinate. Temperature senza particolari variazioni con forte escursione termica tra giorno e notte. Venti deboli mediamente da nord ovest e mare poco mosso. Per domenica 30 dicembre avremo una giornata sostanzialmente simile al sabato ma dal pomeriggio sera si addosseranno le prime nubi sul versante orientale dell'Appennino sintomo dell'arrivo di aria fredda dai Balcani. Dunque dalla serata ci attendiamo un rinforzo del vento dai quadranti nord orientali con temperature in progressiva diminuzione. E sull'inizio della prossima settimana invece cosa ci puoi dire? Lunedì l'alta pressione verrà in parte demolita sul suo bordo orientale a causa di una massiccia discesa di aria fredda che anche se avrà come obiettivo principale i Balcani interesserà marginalmente anche la nostra regione determinando venti forti ed un'ulteriore diminuzione delle temperature. Flusso di aria fredda che tenderà ad attenuarsi nei primi giorni del nuovo anno. Dunque al momento sulla nostra regione non è prevista nessuna ondata di freddo eccezionale ma per maggiori dettagli come sempre invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it Giuseppe ancora un'ultima domanda. Qual è il tempo atteso invece per la serata del 31 dicembre 2018 quindi per l'ultimo giorno dell'anno. Un evento atteso un po' da tutti per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo. Sì come ho annunciato lunedì arriverà aria fredda che determinerà un consistente calo delle temperature con associate debole precipitazioni lungo la dorsale appenninica dove assumeranno carattere nevoso a quote relativamente basse intorno ai 500-600 metri ma l'elemento di maggiore spicco sarà rappresentato dal vento che soffierà molto forte per l'intera giornata acquendo la sensazione di freddo. Dunque notte di San Silvestro che si annuncia all'insegna del freddo con spruzzate di neve nelle aree interne dell'Appennino. Da capodanno invece le correnti fredde tenderanno ad attenuarsi con lieve risalita delle temperature massime. Farà ancora freddo invece durante la notte.